Vi sono anche state misure e decisioni francamente sconcertanti. Io sono fra quelli che hanno valutato in maniera pesantemente negativa tutta la vicenda dell'Imu per aiutare i morosi incolpevoli e contestualmente stiamo approvando la Tasi che si scaricherà per il 20% sugli inquilini. Guardate, sono cose che vanno al di là del bene e del male. Come vicende tipo la Sabatini bis che ancora oggi sono inattuate ed inattuabili e per l'apertura dei cantieri? Io credo che non possiamo continuare in questo modo. Altrimenti davvero non capiamo anche il senso del malessere e anche la ragione sostanziale della svolta verso la quale andiamo con le decisioni di questa sera. Noi abbiamo visto ricostituirsi nell'ambito di quel Ministero la filiera della protezione civile. Abbiamo visto una presenza marcata di vecchi e lobby. Abbiamo visto la presenza di burocrati che condizionano le scelte di politiche pubbliche. Non credo che possiamo reggere in queste condizioni. Allora io sono perché da subito cominciamo a lavorare sul grande capitolo economico-sociale. Dobbiamo creare lavoro, aprire cantieri ed è possibile farlo da subito. A cominciare dalla trasformazione urbana che è il campo nel quale più immediatamente riusciamo a mettere in movimento l'economia. Dando nuovi margini agli enti locali per nuove accensioni di mutui. Avendo una posizione radicalmente diversa rispetto all'uso dei fondi europei. Io non credo che sia sufficiente realizzare un'agenzia nazionale che rischia di essere un altro carrozzone centrale che non mobilita risorse e credo che dobbiamo da questo punto di vista mettere in campo grandi investimenti nelle politiche settoriali. Vi faccio un solo esempio. Abbiamo appostati nel bilancio dello Stato centinaia di milioni di euro. Credo che Stefano Fassina me lo possa confermare. Per l'edilizia carceraria rischiamo infrazioni europee e non riusciamo ad aprire un nuovo carcere, ad attivare un solo cantiere. Nel 2013 non si è aperto un solo nuovo cantiere di investimenti pubblici nell'ambito delle responsabilità del Ministero delle Infrastrutture. Allora, questa è la nostra sfida. Prendere in mano innanzitutto questo grande capitolo che parli alle famiglie, ai disoccupati, alle imprese, a quelli che attendono tempi di decisione compatibili e adeguati alle urgenze economiche. Allora, finisco. Io non credo che noi riusciremo a chiarire questo passaggio politico soltanto con le parole. Voglio dirvelo con molta franchezza. È un passaggio delicato e importante. Spieghiamo bene che non stiamo facendo nessuna staffetta di nessun tipo. Stiamo cambiando il nostro orientamento politico e stiamo cercando, la penso esattamente all'opposto di Civati, stiamo pensando con questa operazione di sintonizzarci esattamente sulle esigenze del Paese e del mondo produttivo. Ma non ce la faremo a spiegare tutto con le parole. Noi saremo chiamati a spiegare quello che stiamo facendo oggi con gli atti di governo, con i fatti, con la tempestività delle decisioni e con una svolta di sostanza che sia percepibile dal Paese. Se sarà così e se manterremo questa condizione di unità del partito, io sono convinto che ce la possiamo fare, al di là delle difficoltà che sono immense. E badate, finisco. Il solo fatto di creare in Italia un nuovo clima completamente diverso, il solo fatto di creare intorno a questa scommessa di Renzi un clima che sottragga l'Italia, questo clima di depressione, di ripiegamento, di sfiducia totale, beh, questo solo fatto potrà rappresentare un grande elemento di conquista e di innovazione politica e comunque un presupposto per affrontare positivamente la sfida tremenda che è davanti a noi. Credo che ce la faremo.